Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube. Rapidissimo, è stato finalmente inserito nel database il primo pacchetto Prime. Cosa vuol dire? Tutti gli utenti che sono utenti Amazon Prime e che hanno effettuato il collegamento del proprio profilo Amazon Prime a Twitch, diventando quindi un utente Twitch Prime, hanno la possibilità di collegarsi ad Electronic Arts con il proprio profilo Ultimate Team e ottenere un pacchetto gratis ogni mese. Il pacchetto gratuito di questo mese contiene 4 giocatori oro rari, un PlayerPix 81+, a scelta 1 di 3, sempre oro raro, 6 consumabili e una card di Holland in prestito per 8 partite. Per fare i vari collegamenti vi basta andare nel link qua a fianco, ia.com slash twitch linking. Vi ricordo inoltre che se avete Amazon Prime e quindi Twitch Prime potete anche abbonarvi gratuitamente attraverso il canale Viola al nostro profilo per accedere ai vantaggi della compraventa esclusiva attraverso il nostro server Discord. Trovate tutti i link utili in descrizione. Ci vediamo prossimamente ragazzi, il pacchetto Prime uscirà, di solito esce lunedì, secondo me uscirà fra 8-9 giorni, però non si sa mai o l'uno di questo o l'uno di prossimo. Ciao!